Fiat Panda Van 1.3 Multijet, immatricolata nel 2010, è una due posti, completamente deducibile fiscalmente, ha percorso solo 67.000 km certificati garantiti. Qui abbiamo il servo sterzo, l'aria condizionata e il telefono vivevoce. Portapacchi e cassettiera interna che adesso vi mostro, potete smontarli se non vi servono e magari tenerveli in garage, soprattutto la cassettiera. Venite a provare questa vettura alla Lintica a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Visitate il nostro sito e chiamateci immediatamente per qualsiasi informazione. Ciao!